Andiamo avanti con Omori, via 3 giorni rimasti? Aspetta, ah siamo usciti dal prologo e adesso 3 giorni rimasti? Ah è vero, eravamo col tipino Sì 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 sì, con Kel Allora Kel, dove ci porti oggi? Cane, aspetta, fermati Sunny So che è passato tanto dall'ultima volta che sei venuto a casa mia Ma ora potrebbe non essere un buon momento Ah ok, va bene Danilo, buon secondo anniversario Non sono subatto e nessuno mi dice nulla, buon anno in ritardo Anche a te Danilo, auguroni Grazie per il secondo anno, buon 2022 Allora la trama è questo bambino di non mi amori Ha 4 amici 5 in realtà E uno improvvisamente sparisce E quindi parte in questo viaggio per cercare il bambino che è scomparso Solo che in realtà è tutto molto strano e particolare Perché a volte facciamo dei viaggi onirici Dei viaggi che sembrano all'interno dei sogni E vorrei farti notare Che i salvataggi In questo gioco Dove sono i salvataggi? Ecco tipo carica salvataggio Vedi che Omori è tipo grigio Cioè è bianco e nero In diversi momenti E poi improvvisamente diventa colori È come se avessimo Due dimensioni Una dimensione del sogno O comunque che è dentro la testa di Omori E un'altra invece Che è reale Sto cercando anch'io di capire la trama ragazzi Perché è complicato Cioè non Non ho ben capito Ecco qua chi ci vive Nessuna risposta Una statua di una figura religiosa Senti come se ti stesse giudicando Voglio essere giudicata Un quartiere di nulla Parco di Farahway Il futuro appartiene ai sognatori No ma è il parco che vedevamo anche nei sogni Sto andando in chiesa Ma per me è diritto Fare una breve passeggiata Prima di tenere i miei sermoni Soffro di un'orribile paura Da palcoscenico Da quando ero bambino Ma una bella camminata panoramica Mi aiuta a calmarmi Ragazzo delle mele Bevi succo di mela Hai mai sentito il proverbio La mela al giorno Toglie il medico di torno Lo stesso concetto Si applica al succo di mela Il succo di mela Aiuta all'idratazione Contiene composti di piante benefiche E cura la salute del cuore Può anche proteggere il tuo cervello Non ci sono aspetti negativi Per quanto ne sappia Dalle mele Raccolgo la spazzatura Signore senza tetto Mi ha salutito addosso Perché mi guardate male Sono salutito Potrò anche essere povero Ma la luce solare è gratis Quando ero più giovane La mia famiglia andava spesso In questo parco Ricordo che c'era un lago Con una statua al centro Ma non riesco a trovarlo Da nessuna parte Lo troveremo noi Sì lui dovrebbe chiamarsi Sanni Però nella sua testa Si chiama Omori O comunque nel mondo del sogno Dove ci sono i suoi amici immaginari Quindi ci sono anche amici reali Un artista sta diligentemente Disegnando degli schizzi Wow guarda che bel disegno del parco Che hai lì Ah Oh E là Ti ringrazio Ma è solo un banale esercizio E quello tu lo chiami Banale esercizio? Ma se sembra così reale Sai cosa? Io penso che la gente Sarebbe disposta a pagare Per averlo Non credi anche tu Sanni? Sì Vedi Anche Sanni pensa la stessa cosa Ho deciso Lo comprerò io Qui e ora Ehi Sanni Puoi prestarmi 20 dollari Ah grazie Molto carino da parte tua Ma non è in vendita È per il mio portfolio L'anno prossimo Proverò ad entrare Nell'Accademia di Belle Arti Wow cavolo È un peccato Sarebbe stato perfetto Per il muro di camera mia Lo pensi davvero? Mi chiamo Minzi Voi? Io sono Kelle Lui è Sanni Ciao Kelle e Sanni È un piacere fare la vostra conoscenza Ashra Grazie per gli otto mesi Grazie mille Buon 2022 Grazie mille Ashra Thank you Il piacere è tutto nostro Minzi O Minzi Tra Minzi Qualcosa non va? Non è niente Per ora sei stato l'unico A dire qualcosa di carino Sui miei disegni Talvolta quando mi sento giù Dubito delle mie capacità E non trovo la forza Neanche per tenere in mano La matita Impossibile Non ci credo per niente Il tuo disegno È davvero bello Io non riuscirei a fare Una cosa simile Nemmeno se ci mettessi Un milione di anni Io pure Le faccio schifo al disegnare Non essere così severa Con te stessa Minzi Io e Sunny Crediamo in te Giusto Hai ragione Devo solo eliminare I brutti pensieri Dalla mia testa Io Io ora mi darò da fare Finirò questo lavoro Questo è lo spirito giusto Ci si vede Minzi Vedrai che ce la farai Noi Recentemente La mia vita è stata un po' stressante Ma guardare le persone Mi aiuta a mettere le cose In prospettiva Ragazzo carino Potrei farci l'abitudine A visitare questo parco Più spesso Suppongo che ogni tanto Per rilassarsi Basta fermarsi E annusare le rose Effettivamente sì Grazie Alex Hai fatto bene A farmelo notare Perché non ci avevo Fatto caso Il romanaccio Dove è impegnare Aopis Che è lei Ate visto No aspetta Ate visto Ndostate Anna Avete visto Dove state andando Perché c'è Stambotto De spazzatura Sta città Se ne trovate Ma potete portare Così che me ne posso Occupare personalmente Dai Epischea Aiutiamo Ormon Non passo Avorta Avorta Va bene Avorta Ermonnezza La puzza che senti È orribile Perché stai Stai facendo Che la faccia Tengo qualcosa Ah è napoletano Tengo qualcosa In faccia Pazzatura Ah Ehi Come va Che stai facendo Qui Che è l'abiti Da queste parti Oh wow Non mi aspettavo Di vederti qui Jay Sanni Lui è Jay È il capitano Della squadra Di football Della mia scuola Non sapevo Giocassi anche A basket Sono qui Solo per passatempo È già un hobby È più un hobby Che altro Stai provando Ad entrare Nella squadra Di basket Ah stai provando Ad entrare Nella squadra Di basket Quest'anno Vero Kel Magari puoi insegnarmi Qualche trucchetto Certo Di sicuro Sembra divertente Però magari Un'altra volta Il mio amico Il mio amico di infanzia Sanni sta per traslocare Perciò stiamo uscendo Tutta la giornata Oggi Siamo a meno Tre giorni Ci beccheremo Sicuramente Un'altra volta Però Certo Possiamo organizzare Qualcosa per la prossima Settimana Solito orario Solito posto Sì va bene Ci vediamo Allora Ma questi I seguaci Del sacro bidone Riduci Riusa Ricicla Quindi mi fanno Riciclare Però io ho preso La spazzatura Voglio rendere Il parco Un posto migliore Credo di aver raccolto Tutti i sacchi Credo ce ne siano altri Un palo per la Tetherball E cos'è la Tetherball Odora di metallo Rugginoso Perché stai odorando Un palo Ma tu ce lo vedi Questo Guarda una Tetherball Sta di metallo Grazie Che cos'è fatto Secondo te Oh scusate raga Vi hanno usato Fortissimo Ci ho fatto Cosa Sorry Sono molto maleducato Da parte mia An usarvi così forte Non lo faccio più Puzziamo Ehi Ciao gatto Mi ha fatto paura Quella non è la strada Per Hobbits Ricorda Sani È nella piazza cittadina A nord di qui E allora E allora di qua E aspetta Di qua no Sarà di qua Ok è pericoloso Camminare per strada Va bene Aveva detto a nord No aspetta No aspetta Io di qua ci posso andare Ah si posso Allora sarà sopra Però posso camminare Solo sul marciapiede Qui è chiusa la strada Quindi come ci arrivo Ci sono dei lavori Da questa parte Alcune cose Non cambiano mai Eh va bene Forse devo andare Dall'altra parte Ah si Ok Ok Monetina Tina la monetina Come direbbe Gian Vai Altre schifette Spazzatura Guarda quanta spazzatura E ancora Altra spazzatura Per me Sì La monetina È caduta dritta Sul fondo Ho appena espresso Il desiderio Di incontrare L'amore Della mia vita Oggi Bene Per te che lo troverai No raga Lassù c'è Capitan Boyfriend C'è Capitan Boyfriend Avanti Sunny Andiamo prima da Hobbit Va bene Beh Eccoci arrivati da Hobbit È probabilmente passato Un sacco Dall'ultima volta Che sei venuto qui Ex boyfriend Ma il posto Non è poi cambiato tanto Sempre la stessa Vecchia roba I giochi di Capitan Spaceboy I film di Sweetheart Una manciata di Tama Sassi Solo che ora Sono vintage Aspetta Sono i Tamagotchi? Parla di Tamagotchi A proposito Visto che siamo qui Dovrei proprio Comprare un regalo Per Kiro Lui è al college adesso Ma dovrebbe tornare domani Sta studiando Per diventare medico Quindi dovrei Comprargli Delle medicine Non è un'idea terribile Potresti Ah no È un'idea terribile Potresti aiutarmi te A scegliere regalo Sunny Guardiamoci attorno E vediamo cosa c'è Un cartonato di Capitan Spaceboy Carti da gioco Sono sparpagliate Per tutto il tavolo Pieno zeppo di DVD Questi DVD Stanno prendendo la polvere Sono sicuro Che molti di questi Li abbiamo già a casa Da qualche parte Probabilmente anche loro Si stanno impolverando Action figure Piccole statuette Sono sempre stato Un appassionato Di questi piccoletti Iro però si arrabbiava Quando scopriva Che li compravo Al posto del mio pranzo Non ricordarglielo magari Un posto interessante Wow Il mostro nella foto Sembra così reale Scommetto che combatterlo Sarebbe un'ardua battaglia Si Posso sfidarlo? C'è qualcosa Che non cosa però Non mi piace Questa atmosfera Jackson Oh Attacco Jackson Jackson si avvicina lentamente Senti di non poter scappare Io continuo ad attaccare Si che poi È Jason In realtà E non aprire Quella porta Ho vinto? Ma che faccia ha fatto? Ehi Sunny Terra chiama Sunny Però abbiamo avuto Un combattimento Ma quindi è tutto Nella sua testa Tipo Un cd è caduto Da dietro il poster Inquietante Chi l'avrà messo lì? Si che Possiamo prenderlo? Si Cd festivo Ho un cd festivo Che ne faccio Di questo cd festivo? So per curiosità Cd festivo Da ascoltare Con un jukebox Ok È un Jason Di Wish È diventato Jackson Questo posto È piccolo Ma contiene molti pezzi Da collezione Vintage e rari E la gente Fa i salti di mortali Per venire qui Il mio romanzo preferito È stato da poco Adattato come fumetto Ma il protagonista Non assomiglia affatto A come me l'ero immaginato Un gioco chiamato Capitan Spaceboy Space Adventure Per giocare Devi pagare Un dollaro Ehi Sanni Andiamo prima a prendere Regalo per Hiro Possiamo giocare dopo Un poster nuovo No un poster per ogni Per un nuovo gioco In cui è possibile Viaggiare attraverso Mondi diversi Nulla che tu Non abbia già visto Kel come stai amico È passato un sacco Dall'ultima volta Che sei passato No? Sì Ma io come compro? Macchinetta dei Gachapon Un pezzo costa 3 dollari Ah i Gachapon Ah sì La macchinetta Quella per Che puoi prendere Tipo Le cose dalle palline Una vecchia console Ce l'ho già Questa console Sanni E non credo Di potermene permettere Due Che uno zeppo Di fumetti Leggere questi fumetti Mi fa tornare in mente Tanti bei ricordi È proprio come Ai vecchi tempi Eh Sanni A Hiro però Non sono mai interessati Alcuni cd colorati Magari li puoi ascoltare È un jukebox Questi cd sembrano figli Ma penso che a Hiro Che Hiro apprezzerebbe Qualcosa di più sentimentale Continuiamo a cercare Sentimentale? No? Ok Qualcosa di più sentimentale Che cosa intende? Cioè vuole una cacola? Piccole statuette Sono sempre stato un appassionato Ah sì Non mi sentite? Non mi sentite ragazzi? Adesso usciamo da qua Così Eh deve essere Questa osca è alta Sì Spettiamo di capire Che cosa dobbiamo prendere Così poi usciamo Una console di gioco Nuovo di zecca Sembra così lucida E elegante Questa cosa Questa cosa È troppo costosa Sanni Amo tanto Hiro Ma non così tanto È letteralmente L'unica cosa Che non avevo guardato Questo Sì Questo è perfetto Il buon vecchio libro Da cucina di papà Chip Che nome lezzo Hiro ne aveva una copia Quando eravamo piccoli Ma il nostro cane Hector L'ha distrutto Sarà così contento Quando lo riceverà Ma prima Dobbiamo scoprire La cosa più importante Quanto costa? È un fan dub C'è una traduzione fan Huracassan No scusami Huracan 20 dollari Ma è una rapina Scusami Eh pagava 20 dollari Per il disegno Lui prima Accidenti Ho lasciato a casa Il mio portafoglio Me li puoi prestare Sanni Te li darò Promesso Grazie amico Sapevo di poter Contare su di te Ok Ehi negoziante Vorremmo comprare Questo libro Da cucina Per favore Di cucina Per favore Che è il come stai Amico È passato un sacco Dall'ultima volta Che sei passato No? Ah il buon vecchio Libro da cucina Di papà Chip Vedo che avete Buon gusto Sì mio fratello Segueva sempre Le sue ricette I suoi biscotti Erano i miei preferiti È raro Trovarne uno È raro Trovare un altro Fan delle opere Di papà Chip Sono 20 dollari Grazie Grazie mille Gentili signori Buona giornata Yes Ho un regalo Per Iro Grazie mille Sanni Scommetto che Iro Lo amerà Ora fammi giocare Sei 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 Ho visto che hai messo Gli occhi su quel gioco Si chiama Capitan Spaceboy Space Adventure Era molto popolare Qualche anno fa Ma continua ad attirare I giocatori competitivi Tutto oggi Tutte le persone Che vivono qua L'hanno provato Ma devi sapere Che io detengo Il miglior punteggio Se riesci a batterlo Ti darò qualcosa di fico Hai la crisi dei cuori Ma è letteralmente Come mi sono fallita Ah perché mi ha colpito Ah ma devo far fuori Questi mi sa Mi sa che devo far fuori Sti cubi Ah devo sparare Attraverso No l'ultima vita No Missione fallitissima Devo batterlo Devo batterlo Ti riprovo Si Vai Space Invaders Però ho fatto strano Ah il giallo mi potenzia? No aspetta No ti prego Devo rifare Dai ho perso la vita All'inizio Non è No No Cioè Non è possibile Aspettare che scendano Non ci credo Faccio schifo No vabbè raga Faccio veramente cacare Devo batterlo Voglio il premio Adesso mi ha detto Che c'è una cosa in più La voglio Io devo saperlo Allora prendiamo Quel coso giallo No ok Non mi fa niente Cosa giallo Mi sarà tempo A morire Così mi devo sparare A sto bagaglio Ok Suo giro l'ho preso No No Sì Chissà che record ha fatto Quel tizio Eh vabbè Ma ora sono stupida Non devo più andarci lì Vai Non andrò più lì Non farò questo errore Ciao Jules Ma buondì Buon 2022 Jules Bentornata Se riesco a farli fuori Da qui Meglio E questo punto È tricky Trovate un punto Da cui rischio Meno la vita E qua è difficile Cacchia rola Qua è veramente difficile Tipo livelli altissimi Di Space Invaders No Lili Lili ti prego Lili Vediamo questo Prima Sì Vabbè Ma io non ce la faccio più Eh raga Adesso è troppo Troppo difficile Non mi fido Non salirò Devo rimanere dietro La protezione No Basta Fatto del mio meglio Sono impressionato Hai davvero battuto Il mio punteggio Sì Credo di dover Lasciare spazio Alla nuova generazione Yes Sono la nuova generazione Ecco il tuo premio Come promesso Do questo solo A chi è veramente Fico Sì Raga Ho gli occhiali Fichi No Raga siamo Fichi Ho degli occhiali Fichi Mani Sono l'unica Cosa che hai Emanano Emanano un'aura Di fierezza Strabiliante Gonfiando il tuo ego Ho gli occhiali Ho gli occhiali Fichi ora Ehi campioni Ve lo chiedo Tanto per sfizio Ma sareste interessati A comprare L'ultimo Tamasso Tamassasso Che mi rimane Normalmente Ve lo venderei Per 25 dollari Ma sembrate Fatti l'uno Per l'altro Quindi ve lo venderò A 10 Non ho soldi Io Non è abbastanza dollari Scusate Campioni Ho speso tutto Alla macchinetta Dei giochi E li dammi I miei soldi Ho rivolto Tamasso Quindi Dove vuoi andare Ora Sanni Immagino che Non ci sia Molto da fare In periferia Che ne dici Del parco Di fare Away Sì il parco Ci siamo appena stati Li ho usati Per battere Il record È da steam Ma l'italiano È una mod Esatto Mimi Ciao Sì 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 È una mod Fan 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 translate Ci siamo passati Venendo qui Sembra divertente No Però è fatta molto bene Posso fare lavoretti Ah devo recuperare Allora Io sono Michael Un quasi musicista Itinerante Per anni ho suonato La mia chitarra Nella piazza cittadina Ma penso che ora Si è giunto il momento Per me di andarmene Mi aiuterete a raggiungere Il mio obiettivo Qualsiasi tipo di contributo Andrà bene Ok È per una buona causa Sembra che manchi ancora qualcosina Prima che possa permettermi Di lasciare la città Vi ringrazio In cambio suonerò per voi Un brano originale Non è abbastanza Ma è Animal Crossing E che yell È lui Bellissimo Bravo Top Adoro Allora Devo dargli abbastanza soldi Per lasciare la città Non parla più però Ah non era finito Bellissimo Sei un portente Siete di nuovo voi raga Sto lavorando solo Per poter guadagnare Abbastanza soldi Sì Vieni Prendi questo dollaro È tutto quello che ho Non ho più niente Sembra che manchi ancora qualcosina Ok Adesso la priorità Non è più comprare Il tamasasso Ma Permettergli di lasciare la città TK Spero che Vivo qua Andiamo da Gino Sedetevi cortesemente Ok Eh non posso sedere I tavoli sono appiccicosi Salve Salve Il mio nome è Gino So cosa stai pensando E no Non sono proprietario Però mi regalano sempre Una pizza intera Per il mio compleanno Ogni anno È già una cosa carina Mia moglie continua a dirmi Che sto ingrassando Ma non posso farci niente Da quando viviamo così vicini A del cibo delizioso Come quello della pizzeria di Gino Oh Pizza Pizza Oh ragazzi Mi avete beccato Durante la mia pausa Non riesco a decidermi Su cosa prendere da mangiare Da dieci minuti Non so perché Tutta questa agitazione Qualsiasi cosa prenderò Sarà sicuramente buona Wahaha Pazzito Sono Rai Sono orgoglioso Di essere un esperto di musica Se usi un cd Su questo jukebox Lì giù Scommetto di riuscire A dirti Chi è l'autore Della canzone Sì Se riesco il mio cd festivo Adesso ho voglia di pizza Però ho scongelato il salmone Per stasera Cd festivo Ok dimmi di chi è Conosco questo brano Si tratta di una composizione Originale di Toby Fox Bravo Ok Cabinato arcade Non sembra essere funzionante Cavo Devo spendere altri soldi Che non ho Itsugaia Ciao Grazie per i 30 Itsugaia bella Welcome back Sì che poi Io tutte le volte Sbaglio Sbaglio i sessi Grazie mille Per la risabbina Come stai Itsugaia Gelato al salmone No Lo spungo Un gelato Gli ho spinti a mangiare La pizza Stasera Salve e benvenuti Alla pizzeria di Gino Cosa posso prepararvi? Non ho soldi Una pizza Scusa Te lo darei Se potessi Torna quando hai abbastanza dollari 8 ottavi di una pizza Capumarola in coppio Erba in una ciotola Cibo preferito di Iro Il sandwich La fetta di pizza La bevanda preferita di Kelly Caffè dal sapore di arancia Soda golosa Per persone associate Che soldi Bevi del succo d'arancia Hai mai sentito la frase L'arancione Il colore più bello? No? Beh non fa niente Basta che tu sappia che lo stesso concetto si applica al succo d'arancia Contiene la vitamina C Che è essenziale per un buon sistema immunitario E anche un antiossidante Che può avere benefici per la salute Proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi Allora Vorresti comprare del succo d'arancia Non ho soldi Non importa Finché non bevi del succo di mela Ah sono quello del succo d'arancia che litiga con quello del succo di mela Devo formare soldi Secondo me il cibo è solo un intermezzo per la salsa Nice point of view Se ti senti stressato posso suggerire del tè Bergamotto e camomilla è una buona combinazione Ma il boba è il mio preferito Alla ricerca del boba Odici sono così tanti tipi di involtini al mercato Non mi serve tutta quella roba costosa Gli involtini in scatola sono abbastanza per me Involtini Io e mia madre stiamo qui per comprare qualcosa di salutare all'Oder Market Dato che ieri ha gettato via tutti gli snack che avevamo Credo che sia fissata con il mangiare sano Da quando nostro padre si sta strafogando solo di cibo spazzatura Perché non possiamo bilanciare entrambi? Sono d'accordo Esatto Io bilancio cibo sano a cibo di merda Cioè va bene così Mio marito continua a mangiare cibo spazzatura Devo fare in modo che abbia un pasto sano Pazzita la signora Mio figlio Billy è così pignolo riguardo l'ambiente Lui e i suoi amici raccolgono sempre la spazzatura in tutta la città È bello vedere tanti giovani prendersi cura del pianeta oggigiorno Tutti i contenitori in questa sezione possono essere riciclati per poi farne dei nuovi ancora e ancora È un concetto bellissimo giusto? Per i match Soda di lusso Cos'è questo posto? Un cartonato del proprietario del negozio sembra un po' eccessivo Benvenuto Speriamo che le nostre caramelle vi rendano allegri Te l'avevo detto Curzi È allegria Allegria Sì signora Eh sono io L'allegra e simpatica signorina Candy Cosa volete oggi? Allegria Allegria Eh Allegria Non ho soldi Per favore torna di nuovo Altrimenti Allegria Allegria Che sta di ammazzare il sonno Me ne vado da questo negozio di caramelle A parte che non ho soldi esatto La povertà Salve Pesce Pesce Cibo preferito di ogni gatto Qui non c'è nessuno Quindi posso Rubare tutti i soldi del panettiere Chiuso la domenica È domenica? Ma c'è tutta la roba lì Cioè ha mollato tutto lì Carne cruda Ho un solo lavoro Ed è vendere carne Non ho soldi Carnivederci Non l'ha detto davvero Farmacia? Vi serve qualcosa per graffi o lividi ragazzi? Il cerotto o il kit di primo soccorso Non c'è nulla che possa fare Qual è il problema signora? Posso aiutarla? No Vi parla questa signora E me ne andrò Non più tristemente Uno straccio umido Posso infastidire ogni carrello? E allora lo farò Comori L'abbiamo iniziato Poco prima delle vacanze Di Natale Uh Mondizia Comunque poi ve lo ricarico su YouTube Così potete Mettervi in pari Per chi non l'ha visto Ve lo metto sul secondo canale Puro lì Live Ve lo metto lì sopra Stasera ho un po' di tempo Così mi metto a caricare video Sul secondo canale Che era un mesetto Che non li stavo caricando Dove puoi trovare cose Per fixare da solo Fix it Cosa ti interessa? Vorrei comprare tutto Ma Fiori per persone importanti Dopo tutto questo tempo Ci siamo finalmente trasferiti insieme È così eccitante Non è vero Sean? Sì Questo è l'inizio Della nostra nuova vita Ora è il momento Di fare la prima Ed importante decisione Di che colore Dovremmo pitturare Ai muri di casa Penso che andrebbe bene Qualsiasi cosa Tutti i colori Mi piacciono tutti i colori Cosa ne pensi Sean? Anche io la penso così Baby Non preoccuparti per me Scegli tu Karen Che colore preferisci? Oh Sean Sei troppo altruista Non ho bisogno di scegliere Il colore della parete Mi va bene tutto Finché sono con te Karen Se continuiamo così Non sceglieremo mai Hai ragione Cosa dici Se chiudiamo gli occhi E ne scegliamo uno a caso? Sì Può andare In questo modo Il risultato sarà imparziale Facciamolo Ok Suona bene Chiudi gli occhi Karen Aspetta Resisti Va bene Dovresti essere il primo A farlo Sean Insisto No Karen Devi essere assolutamente tu Che succede Se prendo un colore Che non ti piace? Oh Non ci stiamo muovendo Da nessuna parte Vero? Ho un'idea Chiediamo ad uno sconosciuto Di aiutarci Ehi tu Puoi aiutarci Per un secondo? Per favore Vieni qui E scegli un colore a caso Fai solo attenzione A sceglierlo casualmente Ok Hai preso un campione Di carta Da parati Blu Reale Eh Ciao Matt Ciao bello Grazie per i 52 Buonasera Matt Il figo Sei fighissimo Con questi 52 mesi Di supporto Grazie Matt Bentornato Cosa ci fa Questo pezzo di carta Da parati qui? Oh Dobbiamo averlo messo Lì per sbaglio Bene Non è proprio Quello che mi aspettavo Ma penso che Mi possa piacere Cosa ne pensi Karen? Questa carta da parati Mi piace Penso che andrà bene Usiamola Grazie molte per l'aiuto Siamo entrambi Del posto Ma recentemente Abbiamo cambiato casa E quella con il tetto giallo Sulla strada vicino alla chiesa Me ne terrò lontanissima Stiamo pensando Di organizzare una festa Di inaugurazione Della casa Tra due giorni Sarebbe fantastico Se ti unissi anche tu Viva Tipo mai più Voglio rivedermi Nella mia vita Ehi sconosciuti Come sta andando La giornata? La mia vita La mia va davvero bene? Vuoi sapere perché? Perché oggi è il giorno In cui finalmente Sistemerò la perdita In casa mia I miei problemi Sono cominciati Un paio di settimane fa Oh E la gente In sto negozio Vuole parlare Ho trovato una perdita Davvero stinata Nell'angolo del mio soggiorno Come sia apparsa Non lo so Non era molto evidente All'inizio Ma la perdita È lentamente peggiorata Ogni giorno A dire vero Mi sono già abituato A sentire il suono Dell'acqua che gocciola E alla sensazione Del tappeto umido Ma sai cosa? Oggi è il giorno In cui cambierà tutto Sì Sono finalmente Qui da fix it I miei attrezzi Sono pronti E io Io la giusterò Scusa per aver far Neticato così Questa perdita Potrebbe avermi fatto Impazzire Senza che me ne accorgessi Casa mia Si trova proprio Accanto alla chiesa Su Dovest Se volete venire A vedere Questa importantissima Occasione Fate per Ok Gimmo Grazie anche a te Per i 42 Bentornato Gimmo Buon 2022 Welcome back Si tizi Parlano un sacco Ok Non posso parlare Con queste tizie Perché mi sa Che parlano Questa è Maria? Ah no Erano i suoi amici Erano Maria Maria e Come si chiama? Friskis L'amico Quello che si è perso Una conchiglia Ho trovato una conchiglia Very nice Oh Moritz Buonasera Buonasera Sto gioco Benvenuto Comunque Benvenuti a tutti Ragazzi Se vi siete persi Gli altri episodi Come dicevo prima Abbiamo iniziato Mori più o meno Prima delle vacanze Di Natale E Mi piace da morire Veramente bello Ah comunque Per chi è nuovo Del canale Ciao a tutti Sono Sara E sono una variety Gamer Quindi gioco a tutto Dagli indie Ai tripla Potto a Gashin Impact E agli MM RPG E poi vabbè Adesso abbiamo anche La serata horror Il venerdì sera Tante cose Siete super benvenuti Abbiamo anche una bella Community su Discord Ovviamente variety Si gioca un po' di tutto Quindi se volete Giorare siete benvenuti Anche lì Ti prego Non andare Per favore Scusa amico Non posso aiutarti Pensaci da solo Oh C'è un po' di trambusto Laggiù Andiamo a controllare Ma è il suo amico Friskis Questi non sono affari miei Se ce l'hai con lei Allora parlale tu stesso Pazzoide Ti prego Dille solo di ridarmelo Lei non mi vuole ascoltare Aspetta Ma quello è È Basil Ah Basil Si chiamava Vedi Basil Lascialo stare Prepotente Eh Chi c'è Oh è soltanto Kel Perché non ti fai Gli affari tuoi Beh perché non puoi andare A disturbare qualcun altro Kim Ah perché non puoi andare A disturbare qualcun altro Kim Beh ora non sei tu Quello che si sta comportando Da prepotente Non sei tu a fare le regole qui Che cosa succede laggiù Niente Cos'è la band del triciclo Che figa però Sembra cattivissima però È Obri? Quello sfigato di Kel È appena arrivato E pensa di potermi dare ordini Facciamogliela vedere Kel Che cosa vuoi? Smettila di tormentare Basil Come hai potuto? Eravamo tutti amici Non ricordi? Diglielo Sunny C'è Sunny? Wow sei davvero tu È passato un po' di tempo Ma non sei cambiato per niente Da quant'è che non uscivi di casa? Tre anni? Forse quattro? Deve essere stato bello Vivere chiusi nella propria bolla Smettila Obri Non puoi sapere che cosa ha passato Non importa Obri Per favore Ascoltami Ehi smettetela Vattene Kel Questo non è un problema tuo Che diavolo hai che non va Obri? Sunny Forza dobbiamo fare qualcosa Volete davvero fare a botte? Certo Perché no? Voi due contro di me Come vi sembra? Venite pure Affronterò tutti e due No vabbè raga ma la grafica Oh mio dio bellissima Sembra doloroso Aspetta tu che poteri hai? Incoraggiamento Vai Vediamo Allora Obri Ah ma che Quello è un coltello? No aspetta Ho seriamente usato un coltello Su Obri Oh shit Ero talmente abituata a usarlo nel mondo dei sogni Che l'ho usato anche in real Fatto cazzata Oh diamine Oh diamine Obri Stai bene Ti sei fatta male Sto bene No non è vero Stai sanguinando Vieni Dobbiamo andarcene da qui Ve la farò pagare per questo No raga ho usato un coltello davvero Shit E' una mod E' una mod italiana Hanno fatto un ottimo lavoro Cavolo stava davvero per finire male Meno male che avevi quel coltello con te Oppure saremo Aspetta un secondo Dammelo subito Coltello da cucina Non dovresti portarti in giro cose del genere Sunny E' pericoloso Obri è davvero cambiata dall'ultima volta che l'hai vista Lei e i suoi nuovi amici portano solo guai Povero Basil Andiamo a controllare se sta bene Raga mi è preso male Cioè le ho dato una coltellata Sì lei aveva una mazza è vero Ma io le ho coltellata Ehi Basil come stai? Ah sto bene Grazie Kel Non so se l'hai notato Ma qui c'è anche Sunny Di ciao Sunny Oh Ehi Sunny Da quanto tempo è? Ah Yoho Che riunione felice Allora Vorresti uscire con noi oggi? Ah Mi dispiace Mi piacerebbe ma Io Dovrei probabilmente tornare a casa Davvero? Sei sicuro? Mia Mia nonna In questo periodo Non sta molto bene Oh Mi dispiace Mi dispiace sentirlo Fatti riaccompagnare a casa almeno È da così tanto Che non vi beccavamo tutti insieme Ah va bene Ah va bene Grazie mille Ho la mia teoria Adesso ve la spiego Però potrebbe essere spoiler Che ci dare Magari perché viene bullizzato E E che quindi Non ditemi sì o no eh Sto teorizzando Quello che ho capito finora E che quello che noi stiamo vivendo È una sorta di Viaggio all'interno del Subconscio O Comunque della mente Di Omori Fino ad arrivare a quel punto No io faccio teorie più stringate Quella non è la casa di Basil Ah la strada Ok Che ne so io dove abita Basil Ah qua Ah vero Fiori Fiori dappertutto Ecco casa di Basil Quella con il tetto verde Del fertilizzante C'è un dettaglio importante A cui non ho fatto caso Manca Maria Grazie per avermi accompagnato a casa No problema Se mai ti servisse Che io faccia qualcosa Basta chiedere Ok Mari Mari Scusate Mari Ci vediamo dopo Basil Ok Beh Mari Maria Mari Comunque No in realtà Ci ho fatto caso subito Che mancava Mari Cioè Proprio in generale Manca Mari Aspettate Non andate Vi prego Voglio dire Mi dispiace In realtà avrei un favore Da chiederti Qualsiasi cosa Basil Cosa ti serve Beh Vedi Qualcosa di importante Mi è stato rubato Quando noi Eravamo amici Ricordi come ero solito Scattare foto Di ognuno di noi Certo che mi ricordo Quelle foto Erano importantissime Per te Ah Giusto Beh Obri Lei ha preso Il mio album Fotografico E Ho Riarrubato Il tuo album Fotografico Già E lei Lei non me lo vuole ridare Che delinquente Tu non preoccuparti Di niente Basil Ci pensiamo Io e Sani A risolvere Va bene Grazie Ok Allora Nuova teoria Sono passati Tre anni Da quando loro Vivevano quelle cose Insieme Effettiva Più di tre anni Probabilmente Da quando loro Appunto erano bambini Vivevano quelle cose Insieme Io credo Credo che Mari Non sia più Tra noi O non lo sia Mai stata Ma credo Che non lo sia Più A proposito Riguardo a quello Che hai detto prima Siamo ancora amici Voglio che tu lo sappia Capito Capito Qui ovviamente È passato del tempo E le cose sono cambiate Beh Ci vediamo dopo Dai Sani Non c'è tempo Da perdere Abbiamo un album Fotografico Da trovare Controlliamo Se al parco Di Faraway C'è qualche indizio Chi ci abita qui? Sembra Dismessa Questa casa Casa rosa Casa rosa Ah Questi sono quelli Che dipingevano Ehi tu Sei giusto in tempo Per aiutarmi a valutare Il mio ultimo lavoro Ancora in corso Guarda questo bozzetto Che ne pensi? È troppo rigido Non ti pare? No Davvero? Non lo so Sembra ancora un po' rigido Quindi Devo dirti di sì? Ecco lo immaginavo Si sto incominciando a capire L'ispirazione mi ha colpito Et voilà Adesso va meglio Posso disturbarvi un momento? Penso che quest'opera Manchi qualcosa A quest'opera Forse ha bisogno Ha bisogno di più dettagli Oh lo so Posso aggiungere più dettagli Qui, qui e qui Funzionerebbe no? Sì? Ma certo È ovvio Non credi? Sì sto cominciando a capire L'ispirazione mi ha colpito Et voilà Perfetto I dettagli extra Fanno veramente la differenza Posso avere la tua attenzione Per un secondo? Che ne pensi del colore qui? Lo sfondo deve essere rosso o blu? Aspetta Non dire niente Andrebbe decisamente bene Con lo sfondo rosso Giusto? Sì Concordo pienamente Il rosso è la scelta perfetta Porterà il disegno Ad un altro livello Devo dire sì A tutto quello che le dice Perché in realtà L'idea è sua E io sto solo confermando Quello che già le ha in testa Et voilà Ho quasi finito Grazie Non ce l'avrei mai fatta Senza il tuo aiuto Non ho fatto veramente niente Ha fatto un bellissimo quadro Un grande acquario Ci sono almeno due pesci rossi qui dentro Sembrano in salute Da di loro Un osso piccolo Un animale di peluscia Ha visto giorni migliori Bravo cane Luca stai un po' zitto Ma povero Un bravo cane Dipinto classico Dipinto classico Un dipinto classico Un dipinto incompleto Alcuni dipinti scadenti Bucchio di libri d'arte Uno specchio Una scacchiera Mucchietto di piccole statuette Ok mi sa che non c'è niente di particolare Qua in questa casa Col salmone Farò due patate al forno Tanto lo faccio al forno Salmone al forno con le patatine Buono Ehi quanta immondizia Quanta immondizia No questa non la posso raccogliere però Ciao boscaiolo Ita Grazie per i cinque mesi Bentornato boscaiolo Bentornato Avevo Vado ad ordinare anch'io Ah la pizza Avevo anch'io il salmone Magino mi ha invogliata Anche a me ha fatto venire voglia di pizza Però ormai ho scongiato il salmone Il mio piatto forte Se parli di pesce al forno La coda di rospo Coda di rospo Ingratè con le patate Una delle cose che mi viene meglio E tra l'altro saranno due anni Che non faccio la coda di rospo Pesce molto pregiato Buonissimo Infatti non lo compravo spesso Però lo so far bene Vai La coda di rospo per tutti Ma raga È una spesa Ehi ragazzi Siete qui giusto in tempo Per guardarmi aggiustare questo tubo Una volta per tutte Entrate entrate Vedevo l'ora Vediamo Solo qualche aggiustamento Dell'ultimo minuto E posso finalmente Mettere a tacere Questa piccola Fatto liceo pedagogico Ah Finalmente Il dolce suono del silenzio Ma non ha funzionato Dannazione Credo che ci riproverò domani Eccomi un dollaro ragazzi Prendetevi delle caramelle O qualcosa di simile Grazie Vi darò al ragazzo Per aiutarlo Ad andarsene dalla città Cioè posso prendere Quella caramella Sono caramelle Da per tutto Guarda roba Io devo esplorare tutto Ah in bagno Non mi segue Ci avete fatto caso Che non mi segue In bagno Si fa dell'esploro Sì sì Io esploro tutto Chiesa Sembra che Si stiano preparando Per una cerimonia Non vorrai passare Sul serio I tuoi ultimi giorni In chiesa Vero? I miei ultimi giorni? Che senso I miei ultimi giorni? Ah in città Ah ok 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 No è un ragazzo Kel Ma aspetta Tetto giallo Non era quella Dei due tizi Che si erano trasferiti? Volevano fare un party Domani Ciao Frack Salve salve Troppo bellino Amori Ok Torniamo indietro Aspetta Questa forse è la casa Del parroco? No Vedi un telecomando sotto al divano Ehi ragazzi Come va? Intendevo dire Non c'è niente di più bello Che un weekend Con il mio divano Il mio programma tv preferito C'è solo una cosa Che mi fastidisce In questo giorno perfetto Non riesco a trovare Il mio telecomando tv Da nessuna parte E sono troppo pigro Per alzarmi da qua Se lo trovate Potreste darmelo Grazie ragazzini Sì L'ho trovato Sì Bene Vieni Sì è lui Prendi il telecomando Ciao Mike Jordi Bentornato Ciao Stara Tantissimi auguri di buon anno E grazie di tutto Un abbraccio Un abbraccio a te Un abbraccione e auguri Buon 2022 Giordi Mike Jordi Welcome back Grazie ragazzini Ecco prendete un po' di orangeo da me Ma io volevo i soldi Perché l'orangeo? Ehi togliti Non vedi che sto guardando la tv? Scusa Ma io volevo aiutare il ragazzo Ad andarsene dalla città Potevi darmi un dollaro Mi venga un colpo se questo non è Kel Insieme a Sunny È passato un sacco di tempo Dall'ultima volta che vi ho visti Spero che stiate bene Ciao Kel Cielo Kel Sei diventato così alto Sei praticamente più alto di me Di una spanna Tua madre mi aveva accennato Alla tua improvvisa crescita Ma constatarlo di persona Fa un altro effetto Mi ricordo quando ancora Potevo accarezzarti la testa Eri un bambino così birichino Oh no Mi sono dimenticata della torta Ci è mancato poco Sfortunatamente è un pochino bruciacchiata Ad essere onesti In queste condizioni Questa torta non si meriterebbe Più di un 8 su 10 Ma vi garantisco che è ancora buona Eddu Ciao Grazie per i 32 Anche a te buon 2022 Bentornato Eddu Non fidatevi solo della mia parola Assaggiatela voi stessi Crostata Grazie Mi piaciuta la torta? Sto perfezionando la mia ricetta Per la fiera di fine estate Della contea Ho sempre vinto in tutti In tutti gli anni in cui ho partecipato E spero che questo non sia un'eccezione Ok Posso aprire il frigo? Sì mi piace aprire il frigo Cavoletti di buxelli Salata di patate Orangio in abbondanza Orangio Chi sarà questa casa? Conchiglia Ti tiene una conchiglia vicino a tuo orecchio Può sentire l'oceano Ehi chi è? Ehi vicina Come butta? Ehi Kel Oh chi altro c'è con te? Oh aspetta Ti conosco Sei sanni giusto? Scusa Non è passato di tempo Ci siamo incontrati solo poche volte La mia famiglia ha sempre vissuto qui Ma io sono stata mandata ad un collegio Per qualche anno E sono tornata tre anni fa Credo Ehi Sanni Chris è la mia vicina della porta accanto Ed è così cool È la nuotatrice più veloce di tutta la scuola Quando è in acqua Viene scambiata per una sirena O uno squalo O addirittura un pesce siluro Ok Stai esagerando Non stai provando ad unirti Nella squadra di basket quest'anno Sono sicura che ci riuscirai Beh ci proverò Ho giocato molto spesso con sconosciuti al parco Credo di stare migliorando Ma non ne sono troppo sicuro Ma se io facessi basket così come tu hai fatto il nuoto Probabilmente avrei più possibilità Oh non è così faticoso Per me è solo divertimento a dir la verità Oltretutto per quanto mi piaccia nuotare in piscina Preferisco di gran lunga nuotare in mare Amo tutto il tutto del mare La spiaggia Il suono delle onde Anche l'odore delle alghe Eh scusa Sembro proprio ossessionata Non c'è niente di sbagliato È bello essere appassionati di qualcosa Vero? Immagino che in realtà forse tutto ciò Si è iniziato da quando sono andata a un collegio su un'isola Il mare mi fa ricordare gli amici che ho conosciuto lì Spero di poterli rivedere un giorno Ma per adesso colleziono conchiglie e altra roba Io ho una conchiglia Sai quella storia mi ha fatto ricordare di questo Ma Sunny si trasferirà molto presto Magari puoi dargli dei consigli Oh Sunny si trasferirà Beh separarsi dagli amici non è stato facile all'inizio Ma è una cosa normale della vita Sono i ricordi fatti con loro che dobbiamo tenerci stretti Sai una cosa? Ho deciso Se vedete delle conchiglie potrete portarmele Sono difficili da trovare Ma mi assicurerò che ne valga la pena Ce l'ho Hai trovato una conchiglia? Sì, tieni Cosa mi dai? Che carina, grazie Sta armeggiando con qualcosa nelle sue mani Ehi, non si spircia Ciao Kelly e Sunny Se vedete delle conchiglie potete portarmele Ah, ma gliene devo portare altre quindi Ah, ma posso rubare anche le sue? Non credo Ok Te ne devo portare altre Sì, ha detto che si chiama Chris Esatto, ha detto che ne valeva la pena Invece mi ha rubato la conchiglia Bastarda Fedifraga Questa è la casa sua Come? No? Ma non dobbiamo portare regalo a tuo fratello? No, pensavo, va bene Allora, questa è casa mia Intanto salviamo Che non stiamo salvando da 200 anni Di qua non posso andare Sì, scusate Che sarà potente Era molto potente Oh, cos'è? Sta un tutto sbadiglio? Grazie guys Devo trovare altre conchiglie Devo trovare altre conchiglie Ah, di qua non posso andare Starniglio Vediamo cosa c'è qui Colo alieno Io non riesco a passare Ok, non c'è nessuno Permettimi di raccontarti una storia Stavo andando via da Fixit Dopo aver fatto degli acquisti Con i miei sudatissimi soldi Quando ho guardato in basso E le mie nuovissime cesoie Sono scomparse Sì, purtroppo è vero Le mie nuove cesoie Sono uscite dalla busta Della spesa da un buco Come mi sento sciocca In quel momento Come mi sono sentita Sciocca in quel momento Pensi di potermi aiutare A ritrovarle Dovrebbero essere qui in giro Ok, quindi proviamo Delle cesoie Questa è casa sua Decisamente sì Sì, dovevo cercare L'album di foto di Basil E un sacco di altra roba Nel frattempo È molto bello Roxy Guarda Voglio interrogare le persone Chiedi se hanno visto delle cesoie Scusa Scusa se te lo chiedo Ma sembri un giovane affidabile Pensi di potermi aiutare? Dovevo prendere i miei medicinali Stamattina Settimanali Alla farmacia Ma mi sento abbastanza debole In questi giorni Di solito mando a prendere Mia figlia Charlene Ma ora non si trova qui Saresti così gentile D'andare a prenderle per me? Ok Vai facciamo i lavoretti L'ombo della farmacia Ci darà Ah, ok Mi ha dato anche la carta di identità Non posso distruggere I coni stradali Purtroppo nel mondo della realtà Oh, cesoie Li ho viste Cesoie Vai Hai dato cesoie a donna con gli occhiali rossi Grazie ragazzo Mi assicurerò di non fare più un errore così sciocco in futuro È raro vedere in questi giorni dei ragazzi Che vogliano aiutare degli sconosciuti Sentiti libero di passare per casa mia quando vuoi Sarai sempre il benvenuto Ma Signora, può darmi una ricompensa? Ho davvero bisogno di soldi per aiutare un povero ragazzo ad andarsene dalla città Bella casa però Ha tutte la stessa conformazione Perzza di caffè non finito Aprirò il frigo Avocado, uova, mertilli e pompelmi Cibo sano Oh, porta Tappetino da yoga Immaginavo Aveva da persona sana Oh, salve voi due Non mi aspettavo di vedervi così presto Guardate qua Il mio hobby è prendermi cura di questi bonsai Mi aiuta ad alleviare lo stress Dopo aver fatto ciò Andrò a preparare la cena ai miei bambini Kim e Vance stasera Farebbero meglio a non tardare di nuovo Altrimenti Zacc, zacc Ma non mi ha dato nessuna ricompensa Sì, infatti i bonsai con le cesoie, auguri Sono piccolissimi Ho un bonsai Ok, è casa, sì Dell'amica di Obri Sì Sì, sì, Kim è l'amica di Obri Signora madre, sa che sua figlia è una bulletta Lostarda Ok, ora siamo al parco Cosa c'è qui? No, aspetta Vedo quell'albero muoversi Sembra che Obri non sia qui Oh, aspetta Io ti conosco Ti chiami Charlie, vero? No, vabbè raga È assurdo Cioè ci sono Ma cos'è? Ma Ma ci sono i nostri personaggi Di anime selvagge Ma è assurdo Veramente assurdo Sai dove possiamo trovarla? Senti Charlie, so che non sei una cattiva ragazza Obri ha preso qualcosa di importante a Basil E dobbiamo riprendercelo C'è qualche modo in cui puoi aiutarci? Chi, cosa e dove? Perché l'hai fatto? Ah, sono proprio Kelly quello strano tipo col coltello Avversari degni per il grande e coraggioso Angel Finalmente è tempo che voi incontriate il vostro destino Sono morta Ma è come bere e mandarsi l'acqua di traverso Volontariamente Angel, non abbiamo tempo per questo Vogliamo solo trovare Obri Tu sai dov'è? Cercate Obri, vero? Interessante Vi dirò quello che so Ma prima dovete avere la meglio su di me in uno scontro Scontro? Ma io non voglio picchiare un ragazzino Non riuscirete a sfiorarmi nemmeno con un dito Forza Facciamole a pezzi, Charlie Ok Lo riattaccherò con il coltello Ma Charlie è gigantesca No, vabbè raga È assurdo Non stai usando il coltello, vero? Ah, ok Con i pugni Bravo Attacchiamo Angel Incoraggiamento Non usare il coltello, eh Io mi dipendo Charlie è ferma in piedi No, non essere triste Aspetta Aspetta, calma No, non voglio incoraggiamento Volevo calma Ecco, su di lui, sì No, ma scusami Aspetta Ma mi sa che lo fa solo su di me Sì, il coltello me l'aveva portato via Aspetta Spero che non lo usi più Palla in faccia Mi hai sorpreso, Kel Saresti un degno rivale per il mio maestro Charlie è sempre ferma lì Panini Voi la pagherete per questo Ma mi hai sfidato tu Com'è possibile? Il mio allenamento è stato tutto sprecato Ah, mi fa male la testa Sei tu che hai cominciato Bully Ah, va bene, Angel Ora è il momento di fare i seri Abbiamo battuto te, Charlie Quindi dici dov'è, Ubri? Una promessa è una promessa, suppongo Ma terrò la parola e vi dirò quello che so La verità è che Ubri è da qualche parte A fare away Almeno credo Dannazione, Angel È meglio che tu non scherzi con noi Altrimenti Ti ho promesso che vi avrei detto quello che sapevo E la verità è che Non so niente Angel, fare meglio a dirci dov'è in questo momento Altrimenti dirò a tutti A tutti di quella volta Che hai bagnato il letto in campo estivo Al campo estivo Cosa? Non puoi farlo Questo è barare Comunque non lo so sul serio Forse potrete chiedere al mio maestro Il Maverick È il custodio di tutta la conoscenza Me l'ha detto lui stesso Il Maverick? Oh no Intendi quel tipo strano, Michael? Non rosare chiamarlo con quel nome Sarebbe una grande offesa per lui Capisco Quindi è lui Dove posso trovare questo Michael? Volevo dire il Maverick Vi dirò quello che so Ma dovete Dovrete combattermi prima Oppure posso dire a tutti Di quella volta che tu Ah Va bene parlerò Il Maestro è andato alla fontana Della piazza di Fireway Ha detto che doveva incontrare Alcune ragazze lì per Un appuntamento Credo Disgustoso Forza Sanni Andiamo alla piazza di Fireway Credo che qui abbiamo finito Charlie non parla Mi avevano chiesto qualcosa loro No Ah Mi ha dato 12 dollari Per la spazzatura che ho raccolto Possiamo aiutare il tizio Ad andarsene dalla città E possiamo comprare Anche il Tamacicchio Si chiama Il Tamasasso Ciao Franco Gamer Grazie mille per Per il ride Ciao belli Benvenuti Bene arrivati a tutti voi Piacere avervi qui Non lo so Potrebbero bastare 12 dollari Vediamo quanti soldi vuole il tizio Allora aspetta Vai Vediamo quanti ne vuole Continua a dargli un dollaro alla volta Finché non abbiamo abbastanza Quanti soldi ti servono Per lasciare la città Si Si Un dollaro Si Vediamo 7 dollari Manca ancora qualcosa Ok niente Lui suona E poi gli ho detto Non è Maverick È Il Maverick Oh il Maverick Sei così simpatico Wow Che storia affassionante Il Maverick Ragazze Ragazze Vi prego C'è abbastanza Per entrambe Il Maverick Michael Come ti permetti di trattarmi come uno stupido Come ti permetti di trattarmi come uno stupido Io il Maverick non accetterò questo affronto Preparati ad affrontarmi Guardate questo ragazze Ci pulirò il pavimento con questo perdente Ti prego Michael Non farti questo Te lo chiederò ancora una volta Tu affrontami Non fare il codardo Stiamo per farlo sul serio Ok Allora Forza Sanni Sconfiggiamolo Ma è fuori duro Il Maverick Ok Il pietoso sciocco Non hai alcuna possibilità contro il Maverick Sì Coraggiammi grazie Perché tutti picchiano il tuo volo pello Dovrei curarlo Se mi sa che Se Cal muore qui È un casino Eh non siamo Siamo nel mondo reale Quindi Però forse questo Non mi ripristina la vita Cal si arrabbia Cal usa orangio Recuperatele di succo Ed è arrabbiato La combinazione tra succo d'arancia e caffè Ha creato un sapore alquanto riscutibile Felice Sta morendo Cal Basta colpire sempre Cal Non male Ma la battaglia è appena iniziata Senti Facciamo che io attacco E tu perdi Continua a difendere Continua a difendere Perché sennò veramente mi muore Non mi fa male anche se mi difendo Ma sto Maverick è tipo fortissimo Kit di primo soccorso Vai 150 di vita Defenditi Ahà Vai continuiamo ad attaccare E lui difende Vai andiamo avanti così C'era da aspettarselo dal mio rivale Ma devo avvertirti Mentre stavi per le tue Facevi sport Io ho perfezionato le mie tecniche Proprio per questo momento Non raggiungerai mai Il mio livello di abilità Ti batterò Cal È lunga eh Ciao Valentina Sì siamo nel mondo reale Ma guarda Stiamo cercando di capire anche noi comunque Cioè almeno chi non l'ha giocato Io li adoro I combat Bellissimi Adesso questo è nel mondo reale Quindi non possiamo usare In realtà forse sì Forse possiamo usare Felicità contro Tristezza Contro rabbia Ho un sacco di danni Anche secondo me è tutto nella sua testa È che nel mondo reale Non possiamo giustamente usare i coltelli Dato che prima ne abbiamo usato uno E non è finita bene Scommetto che ora ti stai pentendo Della tua decisione Io sono troppo forte a differenza tua Tu non sei altro che un perdente Piano piano stai scendendo Fa sempre più danni Fa sempre quel dannino in più Che lui fa Sì sì So come funzionano le emozioni Il problema è che Letteralmente con loro Non le posso usare Perché adesso devo sempre difendere con Kel È solo una questione di tempo Prima che vi stanchiate La mia vittoria è imminente Devo usare calma Eh ma il fatto è che Non è lui che si deve calmare È Kel Che si deve calmare Ci vuole troppo Lo ammetto Sono impressionato Ma sei ancora lontano Di luce Dal potermi sconfiggere Madonna raga Questo non scende Ho altri snack Ho la crostata Allora facciamo una cosa Q continua ad attaccare E tu mangia di la crostata Niente l'ha messo K1 Schiaffi che da Ok calma Ah no È impossibile Inverosimile Assolutamente inconcepibile Calma Espiriamo Ha fatto arrabbiare Sunny Dai No no Non posso permettere Che finisca così Abbiamo battuto Nessuna recalcitranza Non posso arrendermi ora Aiutanti della terra Abitanti della terra Niente Braga Prestatemi la vostra forza Ehi ma che ha questo tizio È così strano Non vale 10 dollari Andiamocene Ragazze Vi prego Tornate indietro Ho altri soldi Michael Non c'è nessuno qui Che si chiama in quel modo Per favore Non ti chiederò nient'altro Per il resto della mia vita Dici semplicemente Dov'è Obri E ce ne andremo Ok d'accordo È capitato per caso Che io sappia dov'è Te lo dirò A una condizione Devi chiamarmi Con il mio vero nome Il Maveri Lascia stare Andiamo a cercare Kim Lei probabilmente sa Dov'è Obri Lei e Vance Sono dei grandi amanti Dello zucchero Quindi Ho un certo presentimento Che siano da qualche parte Vicino a delle caramelle Wow Quel ragazzo Dai capelli biondi È così fico Se solo avessi La sua stessa confidenza Non ti dirò Ah sì Non ti dirò mai Dove si trova Obri Finché non mi chiamerai Il Maverick Altro dollaro per lui Sì Vieni Ho un dollaro per te Basta? Se ne vai per la città? Oddio Quanti soldi vuole sta creatura Per andarsene Gino vende la pizza È una pizzeria Incredibile La pizza di Gino Ha fatto venire voglia di pizza A tutte le persone in chat Che hanno ordinato pizza Anche se avevano altre cene Conoscendo Kim e Vance Sono probabilmente Qui da qualche parte Vero Farmacia per la vecchietta Bravo come l'hai ricordato Eccola Sbrigati Vance Ficchiamocene tutte Nelle tasche Prima che qualcuno ci veda Ehi Kim Hai visto Obri Da qualche par Accidenti A quel nerd Kel Forza Vance Dobbiamo scappare Wow Fermi lì Non credo che quelle Le abbiate pagate Levati di mezzo Nerd Non mi conosci Aspetta un secondo Non sono qui Per fare la spia Abbiamo solo bisogno Di trovare Obri Sai dov'è? Ah? Obri? Io non so Non ne so niente E se anche lo sapessi Non te lo direi Ne ho abbastanza per oggi Kim facciamo un patto Tu mi dici dove è Obri E io non dirò a nessuno Che hai rubato Tutte quelle caramelle Pensavo avessi detto Che non avresti fatto la spia Non la farò Se mi dici dove è Obri Di nuovo voi due Pensavo di avervi detto Di non tornare mai più qui Allegria Allegria Consegnatemi le caramelle rubate Non costringetemi A chiamare la polizia Per dei ragazzini Allegria Allegria Ci hanno beccato D'accordo Ecco le tue caramelle Porta avanza Andiamocene da questa discarica Ah vi sta bene Aspetta Come faremo a sapere Dove è Obri ora Dai Sunny Seguiamoli Allegria Andiamo in farmacia Aspetta un secondo Sunny Penso di aver avuto un'idea Scusa per l'attesa Andiamo a prendere Kim e Buzz Oh ha comprato le caramelle Carino È proprio un carino Salve Come posso aiutarvi? Cetta e carta di identità Ah siete qui per prendere Delle medicine So perfettamente Per chi sono Le prendo subito Ciao Arizona Hello Hello to you Medicina della nonna State prendendo le medicine Al posto di sua figlia? Non dovrei darvi Delle medicine così Ma di solito Faccio un'eccezione per lei Visto che non ha modo Di venire qui di persona Grazie per l'aiuto Che le state dando Vi auguro una buona giornata Se avrete mai bisogno Di cerotti O kit di primo soccorso Potete venire da me Bella zero di vita Però io non ho molti soldi Ma un cerotto va bene Alla fine dai Andiamo un cerotto Prendo qualche cerottino dai Sì 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 Due cerottini Cerchiamo di fare altri soldi Spero che la signora anziana Mi dia dei soldi Allora Aspetta forse No non credo che possiamo Dormire nel letto Per recuperare la vita Forse sì No siamo nel mondo reale Devo per forza usare qualcosa Tama sasso di Kel Ah Ma quindi quell'altro È un tamasasso migliore Mi sa Quello che posso comprare Ok Allora Tasche Non posso curarlo da qui Sì No Crostata Crostata con ripieno La burrosa crosta Della crostata Bilanciava perfettamente Ripieno di frutta Ma l'ho curato di niente Ah il cerotto nei giocattoli Ok Vai Sono uno su Kel Uno lo teniamo Quel combattimento con Maverick In Maverick Scusa Vans Niente caramelle oggi No non di nuovo Non so quanto tempo potrò resistere ancora Moriremo Andiamo a casa e basta Arriveremo in ritardo per cena di questo passo Ferma Kim Dobbiamo neanche pagarla Puoi chiedere almeno se c'è qualche caramella a muli dentro Basta Vans Dobbiamo essere forti Quando andiamo a casa di papà avremo tutte le caramelle che vogliamo D'accordo Lo faccio per te sorellina Kim Caramelle Capisco Questo cambia tutto Bene Credo che non abbiamo scelta Avanti Sunny Sai come funziona Oh no Vi dimostrerò che la gradezza non è tutto Però dove sei un ragazzo Kim Non perderò contro dei nerd come voi Ok Andiamo prima su Kim E con lui difendo Anzi incoraggiamento Onore Eh sì vabbè Subito c'è rotto qui Allora facciamo Dov'è il cerotto? Ah eccolo Cerotto E tu ti difendo Ma mi fanno un botto di danni anche se mi difendo Ma raga hanno un botto di vita C'è impossibile batterli tutti questi Come faccio? Oh no Sunny è diventato triste Ah lui Però di solito lui fa più danni quando è triste Che fai da troppi danni Calma Eh ma da solo Da solo faccio fatica Sì sono Sono passati tre anni Sono cresciuti Ah non ce la posso fare Fa troppi danni Non avete nessuna chance contro di noi Quindi possiamo prendere quelle caramelle ora Ma come faccio a batterli? Cioè è perché ho sprecato tutto per Maverick Magari potevamo battere loro Se non Se non battevo Maverick Mau grazie per il regalo Nephtis Grazie mille Nephtis bentornato Dai Kim dobbiamo andare a casa È quasi ora di cena E mamma si arrabbierà se arriviamo tardi Andiamocene Ferma non andare Ti prego Kim So che sai dove è Obri Lei Lei ha preso qualcosa di veramente importante a base So che voi due siete amiche e tutto il resto Ma perfino tu devi ammettere che Obri esagera qualche volta Per favore Stiamo solo cercando di aiutare un amico Obri è in chiesa Quella vicina a casa sua In chiesa? Ehi non guardare me Sei tu quello che lo voleva sapere Inoltre se vuole sapere chi ve l'ha detto Ditele che non sono stata io Ditele che è stato Michael o qualcuno come lui Avanti Kim dobbiamo scappare Sai come diventa mamma se facciamo tardi Sì giusto hai ragione andiamo Ci si becca nerd Hai capito Ciao Putis Diamine hanno preso la bussona di caramelle mentre non stavo guardando Quei due hanno proprio la mano lesta Beh almeno sappiamo dove Obri ora Almeno credo Non riesco proprio a immaginare Obri in chiesa Potrei credere Solo vedendola con i miei occhi Allora Un altro dollaro al tizio Dai Quanti soldi ti servono per diventare una star? Che dire Vabbè 10 dollari? Ah Facciamo così Altro dollaro E arriviamo a 10 Sì questo sta diventando ricco Come? Oh raga io non so quanti soldi gli devo dare a sopra Perché non mi è rimasto molto Questo punto gliene do 5 Sì manca sempre meno al momento in cui potrò finalmente andarmene da qui Vi ringrazio in cambio suonerò per voi un brano originale Ok non bastano neanche questi Dice manca sempre meno quindi dovremmo essere vicini Eh sarà 20 dollari Andiamo dalla nondina Ma dov'era la nondina? Eccola Siete tornati Medicina Sì sì adesso finiamo qua E poi stacco Scusatemi grazie mille siete stati di grande aiuto E' bello vedere i giovani aiutare noi anziani Sarete sempre benvenuti in casa mia Oh no anche questa siamo benvenuti ma non ci ha dati soldi La mia figlia più piccola di solito si prende tanta cura di me Mi chiedo dove sia adesso E' sempre stata silenziosa ma si è fatta a molti amici recentemente Spero che non si dimentichi di me Sa chi è la figlia piccola? Indirizzate a mamma Gli indirizzi di ritorno sono da tutto il paese Fizza di certificati e riconoscimenti ricoprono questo muro Il più vecchio risale a quasi 20 anni fa Figorifero Le augurte asparagi è una specie di medicina Devo sapere chi vive qui Ehi Puzza come se ci fosse del cibo marcito Non posso prenderla questa spazzatura Ah infatti perché io poi la scambio per i soldi Se ti chiedi così tanto perché io sia più pandemico di te È solamente dovuto alla mia importante filosofia Il mio incarico mi ha portato alla scoperta più elefantina tra tutte Gli altri sono 100 No anzi mille anni in anticipo per comprendere il mio genio Non conturbarmi più con la tua presenza Non riusciresti a percepire nulla di tutto ciò che sto inviando al tuo cervello Sì quella periferica su cui riflettete laggiù è la mia promessa sposa Sarei grato se teneste le vostre appendici ottiche nella guaina Lei assimila i miei discorsi più di chiunque o altro Ha davvero un cuore dolce e ci amiamo Ora lasciateci soli Loco 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 Ti daresti sei su dieci Telefono fisso Oh ciao urso Un elegante servizio da te per due C'è una lettera d'amore su questo tavolo Per chi potrebbe essere? Telecomando per la tv La mia figlia più piccola? Ah sì Aveva già detto questo Ma che pizza? Ma mi ha fatto entrare in casa L'ho presa la spazzatura Presa l'ho presa Quella del tipo Comunque ha detto che Obri è in chiesa Quella sarà casa di Obri? Il fatto è che Cioè io ho finito i soldi praticamente E' un casino Allora La chiesa dove era? Era sotto Sembra Sembra sotto a sinistra Esatto Bene eccoci arrivati Questo è sul serio l'ultimo posto che mi aspettavo da lei Sono abbastanza dubbioso in realtà Potrebbe essere una trappola Aprirò leggermente la porta per sbirciare Mi sembra tutto normale Penso siano nel bel mezzo di una cerimonia Oh lei è quella sulla destra E' semplicemente seduta lì Tutto normale E' così strano Sì beh non mi farebbe molto piacere interromperli Dovremmo probabilmente aspettare fino alla fine della cerimonia o qualcosa del genere Ok Fermo Sani aspettiamo finché la cerimonia non è finita Ah qui? Così? Va bene Docherò con questo triciclo mentre attendo Ah è la vecchia bici blu di Obri Statuina di una figura religiosa che mi sta giudicando No? Hai detto che dobbiamo aspettare No non lo finisco oggi omori No mi hanno detto che sono una trentina d'ore Quindi non penso di finirlo oggi Non mi aspettavo che tu entrassi in quel modo Sani Beh ormai non si torna più indietro Avanti dobbiamo essere molto silenziosi Eccola lì sulla destra Andiamo al banco dietro di lei Obri Psst Obri Ma cosa? Che cavolo state facendo voi due qui? Vogliamo che tu restituisca Basil il suo album fotografico Mi state preoccupando ancora di quello Non sono affari vostri Ah davvero? Non sono affari miei? Eravamo tutti migliori amici ma ora questi non sono affari miei? Sì Kael Esatto Eravamo amici Sai Obri Mari sarebbe stata molto triste nel sentirtelo dire Sul serio? Vuoi veramente tirare Mari in mezzo? A chi importa quello che pensa Mari? Mari è morta Lo sapevo Lo sapevo Me lo sentivo dall'inizio Obri veramente? Cos'hai che non va? Ho capito che hai dei nuovi amici ora Ma non puoi semplicemente dimenticarti di quelli vecchi così I miei vecchi amici? I miei vecchi amici non ci sono stati per me quando ne avevo bisogno Quindi è per questo che ti comporti così Quando Mari morì Gli uno aveva avuto i propri problemi di cui preoccuparsi Eravamo bambini È stato difficile Pensi sia tutto così semplice Sei sempre stato una persona semplice Kael E se anche lo fossi? Preferisco essere semplice come Preferisco essere semplice che essere come te Come hai potuto fare quella Quello a Basil? Sai quanto è importante l'album fotografico per lui? È molto importante per tutti noi Questo non vuol dire che tu possa rubarlo come se nulla fosse È questo quello che ti ha detto Basil? Sono io quella che lo sta tenendo al sicuro Di che stai parlando? Quell'album fotografico appartiene a Basil E non ti lascerà stare finché non accetterai di restituirlo Sei così insistente Quando Mari morì Sei passato avanti così velocemente Sai perché vengo qui ogni settimana? Anche dopo tutto questo tempo Sto ancora cercando di trovare un po' di pace Ma non sembra che accadrà oggi Non abbiamo parlato per quattro anni, Kael In quattro anni cambiano tante cose Tu e Sunny pensate di poter semplicemente tornare nella mia vita E dirmi cosa fare? Non siate così ingenui Potresti sembrare diversi Agire diversamente, Obri Ma sei ancora la stessa persona La Obri che conoscevi ormai non esiste più E la Obri che era tua amica Non c'è più neanche lei Ok, d'accordo Capisco che sei arrabbiata Senti, se sono delle scuse quelle che vuoi Ecco qui Mi dispiace, ok? Sarei dovuto esserci per te quando abbiamo perso Mari No Non le accetto Aspetta Dove stai andando? Non posso lasciarti andare finché non prometterai di restituire a Basil il suo album fotografico Ladra Che succede? Basil? Non è il ragazzo che... Ho visto Obri e i suoi amici bullizzare Ora sta anche rubando Ups Pensi di essere quello buono, vero Kel? E io sono il grande cattivo bullo Qui pronto a terrorizzare il povero inerme Basil Sei tu quello che gira con lo psicopatico che si porta dietro un coltello Questo non è il momento, Obri Non sta a te dirlo Sei tu quello che ha fatto eruzione qui Ho già detto che mi dispiace per ogni cosa Se vuoi che io sia il bullo Allora sarò il bullo Vi conviene attaccarmi adesso o vi attaccherò io No, ma io non ho HP, raga Io scappo Ma mi... mi... mi stende Cioè, non ho... non ho vita Guarda i suoi vestiti Sono così inappropriati per una chiesa Eh, vabbè, ne faccio uno subito Posso provare a usare calma, ma non mi basterà Non posso credere che abbia portato un'arma con sé Che incivile Ah, la gente in chiesa che sta parlando male di lei Gli adulti in chiesa ne stanno parlando male di lei Obri Attacca a sani Cosa pensano di fare questi delinquenti? Questo è il luogo di preghiera Non posso usare calma Magari questa sclera Ok, fa sempre più danni Qualcuno deve fermarli Dove sono i loro genitori? 82 danni Sempre di più Sì Hai ragione, Kel Adesso, lasciatemi sola Da quando suo padre se n'è andato Lei è così incontrollabile Rispettosa Mi dispiace per sua madre Cavolo So che nell'ultimo periodo si è comportata male Ma mi dispiace per lei in ogni caso Forse questa non è stata una buona idea No Non lo è stata No, e decisamente non potevo vincere È il tramonto Hanno fatto la festa I tizi? Ok, non sono loro No, la casa distrutta era la sua Ciao Rordor Grazie per i tredici mesi Anche a te Buon anno Buon 2022 Sto giocando a Omori Bellissimo Un'avventura indie Indie stupenda Doppiare? No Non ho studi di un viaggio Sì, ho fame Hai visto anche tu Omori appena accettato qualcosa Nel bidone della spazzatura Andiamo a controllare Pure Stalker Oh, non ci credo Ma è l'album fotografico di Basil Non posso credere Che l'abbia trattato in questo modo Abbiamo fatto bene A controllare nel bidone della spazzatura Ma guardando il lato positivo Almeno adesso abbiamo l'album fotografico E ci abbiamo messo solo mezza giornata È il lavoro di squadra Batti il 5, sanni Sì Riportiamolo indietro a Basil Prima che si faccia buio Sarà così contento Quando lo vedrà Sì, ma mi dispiace Per quello che è successo a Omori Era Omori Basta Darò tutti i miei soldi Al tipino Comunque Allora, andiamo al parco Penso di aver trovato il vero amore Della mia vita oggi Spero che mi noti un giorno Ma sei innamorata di lui? Sono proprio Che che le sanni Potresti anche aver assistito la mia umiliazione prima Ma adesso è ora che io Il Maverick mi riscatti ancora una volta Che c'è adesso, Michael? Una nazione a te e i tuoi modi sfacciati Kel, ti propongo una gara Sul serio, una gara? Sul serio, una gara? Non so Guarda che sono veloce Questo è quello che dici adesso Ma aspetta solo che ti mostri i risultati del mio allenamento Sono serio, Michael È giusto che io ti avvisi Sono veloce Ma tipo davvero veloce Ehi, aspetta Per rendere la cosa più equa Puoi usare il tuo monopattino se vuoi Non prendermi in giro Dai, su, Kel La fai facile a parole Ora passa i fatti Perché non mi fa vedere una vera sfida? Dovrò farlo in ogni caso, vero? Scusa, Sunny Sarà una cosa veloce Pronti? Partenza? Via! Aspetta Io Voglio la rivincita Non penso proprio, Michael Voglio dire Si sta facendo un po' tardi, no? Riesce a parlare Tanta la parrucca, di nuovo Sì Prego Io Devo Difendere Il mio onore Magari un'altra volta Io e Sunny ce ne andiamo adesso A dopo, Michael Povero Michael Provinato Salviamo Salvo qui E poi Vado a portare un po' di immondizia A questo divino Oh, salve La sporcizia di questo pianeta Mi fa sentire male Come vorrei semplicemente Spazzarla via tutta? Lo vorremmo tutti, amico Sì Ah, non ho altra spazzatura Vai Vi do gli ultimi soldi Che mi rimangono Due dollari Dai Manca sempre meno Mi vorrà 20 Dai Dai Un obiettivo Dove faccio Altri soldi A diavolo Non so neanche cosa sto facendo Ehi tu Sei giovane, giusto? Vorrebbe un giovingello come te Aiutare un vecchietto come me È il decimo compleanno Di mio figlio Jess domani E volevo prendergli qualcosa Che gli piacesse Sul serio Potreste cercare nel negozio E trovare un regalo Al posto mio? Ok La console Questa console è bellissima Ah, devo Devo, ok Devo cercare cose Finché non trovo Super ultra mangia bulbo Talpe vendetta delle talpe 3 È consigliato a chi Più di 17 anni Puoi prenderlo Sì, tieni Quindi questo è quello Che vi piace a voi giovani? Non capisco cosa ci sia di bello Ma va bene Ecco una cosa che ho trovato Mentre stavo spazzando prima Puoi averla Conchiglia Nice Il prezzo di questo gioco È accidenti Il mio portafoglio Beh, se a mio figlio piacerà Ne vale la pena Ho guadagnato una conchiglia Può portarla alla tipina Alla nuotatrice Un futuro classico Grazie per l'aiuto, amico Sai, mi potrebbe servire Un consulente Per cose come questa A mio figlio Non piace parlare Delle sue passioni con me Ma dovrò pure In qualche modo Stare al passo Con tutta questa roba Modernissima Vivo in una piccola casa Sulla strada a sud di qui E quella con il tetto marrone Vieni a trovarmi Ogni tanto se ti va Voi volentieri Questo posto è piccolo Ma contiene molti pezzi Da collezione vintage rari Ah, sì Era la stessa tipa Che era là sopra Ha solo cambiato posto Il tizio non ha idea Di quanto io mi stia sbattendo Per trovare i soldi Per lui Amo gli scalogni Sono deliziose nutrienti Pinto dall'alito Non vado pazzo per il cibo Ma un lavoro è pur sempre un lavoro Mi piacciono le crocchette di pollo A dire il vero Ehi, chi si rivede? Chi disegni stavolta? Kel E Sanni, giusto? Perdonatemi Sono una frana con i nomi Sto cercando di disegnare della frutta Ma non sta venendo molto bene Sì, invece Non vado matto per la frutta Ma questo è un aspetto così appetitoso Che la mangerei tutta Lo pensi così anche tu La pensi così anche tu, Sanni, vero? Lo fareste davvero, ragazzi? Ti ringrazio Figurati, Minzy Continua così Ce la puoi fare Incoraggiamola Vediamo se c'è qualcuno Dalle caramelle Sì Il cioccolato è il miglior amico di una donna Anche se anche i diamanti Hanno un posto piuttosto alto Sono una donna e non ho diamanti Sono sporchi di sangue Avete visto il film Blood Diamonds? Ah, ma i tizzi sono ancora qua Eh, guardatelo Blood Diamonds Bellissimo Con DiCaprio Molto bello Oddio, io l'ho visto al cinema un botto di anni fa Parlo con il commesso? Ma hanno dei lavori anche loro? È quello sull'isola, sì Ah no, mi chiede solo se voglio comprare dei fiori Ma non ho soldi Una fontana Puoi vedere delle monete sul fondo? Ah, mi servono Le buttate qua dentro Le riporrei Allora, il tizio mi aveva detto di andare a casa sua Era questa? Aveva detto col tetto marrone Non so se intende questo per marrone O se questo è il suo marrone Pure questo è il suo marrone Ah, aspetta Questa è la casa della tipa Siete ragazzi che mi hanno aiutato a trovare le mie cesoie Sto cenando con le mie figlie adesso Ti va di unirti a noi? Ma che diavolo? Sono Kelly e Sunny alla porta Perché voi due siete davanti a casa mia? Via di qui, nerd Kim, cosa ti hai preso tesorino? Scusate ragazzi Forse potrete unirvi a noi a cena un'altra volta Mazzita Kim Andrà a frugare la sua spazzatura Tesorino Ah, tetto marrone Ok, non c'è nessuno Qui c'era la signora anziana Buona cena Max Ma questa è sicuramente di qualcuno molto predente Anche quella ha il tetto marrone Potrebbe essere questa Yes No, questa è quella degli americani Ah, ma aspetta E dove c'è la tipa? Devo portarle la conchiglia Mi ero dimenticata Conchiglia Sì, vieni Che ci fai? Ehi, non si sbircia Ok, ne mancano ancora altre Mi sa Probabilmente servono altre conchiglie E non credo voglia quella in casa sua Magari è la cuccia del cane Oh, andiamo a vedere a casa nostra Ora che ci penso Non posso Non mi fa andare a vedere Andiamo a vedere da Basil Li possiamo riportare l'album Basil, siamo i tuoi amici Calle e Sunny Oh, ehi là Chi siete? Ciao Basil Oh, aspetta Tu non sei Basil Ah, mi spiace Mi chiamo Polly Sono la tata di Basil Ehi, Kel Cosa c'è? Ehi, Basil Abbiamo ripreso il tuo album fotografico Ci sei riuscito Wow, grazie Hai consegnato a Basil Il suo album fotografico Basil, non mi avevi detto Che stavi aspettando degli amici Vi piacerebbe unirvi a noi per cena A quanto pare cucino sempre troppo per due persone Cena? Sicuro? Sembra meraviglioso Forza Sunny Cena gratis Oh yes Ripristiniamo le energie Prego, fate pure come se foste a casa vostra Io intanto vado a finire di preparare la cena È passato molto tempo dall'ultima volta che ho messo piede qui dentro Tu hai certamente molte più piante di quelle che avevi una volta Ah, già, le adoro A dire la verità, alcune di esse c'erano già quando al tempo venivate spesso Sono sicuro che dedichi loro molto tempo Già, tipico di Basil Fiori e foto Mi è venuta un'idea Ora che abbiamo nuovamente il tuo album fotografico Possiamo riguardare insieme le foto Ah, questo... Non sono sicuro È passato tanto tempo dall'ultima volta che le abbiamo guardate Non è vero? Coraggio, sarà divertente Eh, sicuro Ok Hmm, kinda su Ecco qui La mia prima foto È il mio migliore amico, Sunny Che prova il suo nuovo violino Sta ricominciando a prendere lezioni Così che possa suonare ai saggi con sua sorella Mari Mari era la sorella di... Di Omori Quindi di... Omori Omori È così entusiasmante Solo Kel che si comporta da Kel Così tanti cappellini da festa Sunny che gioca ad un videogioco sul divano Sunny è un po' timido ma sa ascoltare molto bene Finisco sempre a sfogarmi con lui quando sono alterato o stressato A volte sento di stargli dando fastidio ma a quanto pare a lui non importa Sì, a quanto pare Mari era la sorella di Sunny Eh, non capisco come i genitori possano essere così assenti dopo che è morta la sorella Vabbè, magari sono passati a tre anni però Siamo tornati dal parco ma Kel è ancora pieno di energia Ha sfidato Hiro a braccio di ferro ma sappiamo tutti chi vincerà Per favore, vacci piano con lui Hiro Secondo me Mari e... Mari e... Sunny erano gemelli Mi spiace Kel Andrà meglio la prossima volta Kel è ancora un po' inacidito per aver perso contro Hiro a braccio di ferro ieri sera Così Hiro ha deciso di dargli un bacetto Kel sembra così infassidito No, in realtà dei genitori si sa che la madre è sempre in giro per lavoro Ogni tanto lascia dei messaggi in segreteria ma non torna mai Dice Oh sì, ci sono dei saldi, devo fermarmi a comprare queste cose Rimani da solo Ah, l'amore fraterno Io che mostro a Sunny un libro che sto leggendo Mari ha rubato la mia macchina fotografica e ha scattato la foto mentre l'ho distratto Dovrei veramente fare più attenzione alle mie cose Siamo tutti sommersi da peluche di Sunny Ne ha così tanti e sono tutti così soppici Vorrei solo poter rimanere qui per sempre Mari sta insegnando a tutti come fare delle corone di fiori Ecco Sunny e Kel che osservano l'esempio di Mari Sembra perfetta, non è vero? Se solo Mari la pensasse così Hiro sta ancora facendo la sua corona di fiori Ci sta mettendo un po' ma quasi finito La sua persistenza è ammirevole Oggi piove tantissimo La pioggia sembra sempre spuntare da nulla in primavera Aubrey mi ha chiesto di fare una foto a lei e al suo nuovo impermeabile È del suo colore preferito, rosa Ho perché i capelli rosa Sì, è Blind Run ragazzi Sì, è una serie ed è Blind Run, assolutamente sì Sì, sto portando tutti gli episodi Se volete rivedere quelli vecchi ve li ricarico su YouTube e sul secondo canale Curo Lily Live Piano piano li carico lì, stasera già vi carico un episodio Il primo Oggi piove tantissimo La pioggia sembra sempre spuntare Ah sì, questo ve l'ho detto prima Aubrey non vuole far riparare Kel sotto l'ombrello Ma Kel sembra non dare molto fastidio Dice che gli piace il sapore della pioggia Solo Kel che si comporta da Kel di nuovo Siamo andati da Hobbits Ma il proprietario ha detto a Kel di lasciare la sua giacca fuori Dato che stava bagnando tutti i suoi fumetti Scusa, negoziante La scuola ci ha impiegato molto ultimamente Ma oggi Ci ha impegnato molto ultimamente Ma oggi finalmente abbiamo trovato il tempo per stare insieme e andare al parco Ecco Kel che fa dondolare le sue gambe da sopra un albero È così bravo ad arrampicarsi Vorrei essere impavido come lui Grazie guys I canali È il primo giorno delle vacanze estive Quindi volevamo festeggiare andando in spiaggia L'ancuria è la preferita di Aubrey Kel che si rinfresca con una orange odissettante Non dovrei avvicinarmi troppo Potrebbe bagnarmi la macchina fotografica Kel spesso rovescia le sue bevande Che carino Abbiamo seppelito Sunny nella sabbia Ci abbiamo messo un sacco ma lui sembra godersela Mi chiedo se gli servirà un po' di aiuto per uscire Penso che gli terrò compagnia nel frattempo Eh sì, Sunny oggi compie 12 anni Anche se io, Sunny, Aubrey e Kel frequentiamo lo stesso anno di scuola Sunny è il più giovane di tutti noi È il piccolo del gruppo quindi dobbiamo prenderci cura di lui Però non parla mai di Mari Sunny regge un regalo enorme da Mari e Hiro Ah ok, no, l'ha rinominata Mi chiedo cosa possa essere Non si capisce molto bene dalla foto Ma Mari e Hiro hanno regalato a Sunny un set gigante di blocchi da costruzione Sunny sembra più interessato alla scatola stessa però Si comporta proprio come... Meuo Il nuovo gattino di Mari Sunny non vuole uscire dalla scatola Perciò Kel ci ha messo dentro una ciotola di cibo Penso che questa scatola sarà la nuova casa di Meuo e Sunny È la scatola quella dove ci troviamo sempre nello spazio bianco e nero Quella con la lampadina, il computer Il gatto Stiamo andando a caccia di insetti oggi Ecco Kel pronto a buttarsi sulla sua nuova vittima Oh, c'è anche Sunny Sembra un po' insonolito E tipo là dietro sembra lo spirito È quella È la scatola Rubia, ciao Ciao a tutti, come state? Passate bene le feste? Sì, tutto bene Bello rivederti Rubia Anche a tempo un anno Bentornata Felicissima di rivederti Spero che tu le abbia passate bene Sono andato in bagno Quando sono tornato ho trovato questa foto Kel dice che si è scattato una foto da solo per sbaglio Ma io non gli credo Oggi è il primo giorno di scuola Io Sunny e Kelly e Aubrey ci siamo alzati di buon'ora Aubrey è così fotogenica Addio estate Ci vediamo l'anno prossimo Fine Manca della roba qui Hai finito di guardare l'album fotografico? Sì Oh cavolo, sembra che manchino molte foto Forse Aubrey le ha tenute per sé Domani ce le riprenderemo Ad ogni modo guardate quanto ero basso Credo di essere cresciuto di almeno 30 centimetri Da quando Hiro è partito per il college Non vedo l'ora che ritorni Quest'anno finalmente sarò più alto di mio fratello Comunque non preoccuparti delle foto mancanti Basil Io e Sunny sistemeremo tutto per te Tu pensa soltanto a tornare felice senza pensieri Ok, ti ringrazio, ci proverò Perché ho idea che le foto mancanti non siano State prese Da lei Ma sì, ha un problema di Sunny Dato che Aubrey aveva detto qualcosa Ah, bene, dai Sono felice che hai festeggiato Auguri anche di buon compleanno Allora Dai, meno male Sono contenta Sono belle cose Scusate l'attesa La preparazione della cena sta durando più del dovuto Per me, esatto Per me non le ha tolte Aubrey Ragazzi, uno di voi sarebbe disposto a darmi una mano? Sì, certo Ci penso io Ho fatto un bel po' di esperienza aiutando mio fratello in cucina Sarebbe meraviglioso Prego, seguimi La cucina è da questa parte Mi lascia da solo con basi Ciao Sunny Raga, mancano un sacco di foto Vero, Lily Le mancano tantissime Allora Salvo un attimo Ma Vorrei andare a vedere in camera di Basil Rossi Ciao Grazie per la sub Benvenuto, Rossi Ben arrivato Sta chi è? Ah, la nonna di Basil Un'orchidea irone bianca Nel linguaggio dei fiori rappresenta la frase I miei pensieri ti seguiranno nei tuoi sogni Bella Oh Sunny Non mi aspettavo di vederti qui Ah Come stai Sunny? Va tutto bene? Ok Non importa Nonna non può sentirci, sai Non si è sentita molto bene ultimamente Sono già passati quattro anni, non è vero? È bello sapere che sei nuovamente in giro Anche se da così poco tempo Ecco Prendi il mio album fotografico Vorrei che fossi tu ad averlo Mi fido di te, ok? Credo che tu lo userai più di quanto lo farei io Puzza Sono successe molte cose da quando sono state scattate queste foto A volte mi sembra che sia solamente un brutto sogno È difficile ricordare ora Ma credo che ai tempi Io facessi le foto a ciò che avevo paura di perdere Sfogliando le pagine di quest'album Puoi ancora percepire la felicità dei bei vecchi tempi Magari un giorno le cose si sistemeranno E tornerà tutto come prima Sunny Basil La cena è pronta Ok, arriviamo Voglio vedere la camera di Basil Carino Solo fiori, eh Pia di libri Una pianta La macchina fotografica di Basil Qui non c'è niente La cena fatta in casa di Polly e Kale Vuoi mangiarne un po'? Sì C'è tensione È tutto così buono Sei la migliore, Polly Oh, stai esagerando Ho solo seguito le ricette di nonna Piuttosto ti ringrazio per l'aiuto, Kale Dunque, come stavo dicendo prima Polly, domani Il mio fratellone Iro finalmente tornerà dal college Mia mamma sta impazzendo per sistemare casa e tutto il resto Non mi va di stare in mezzo a tutto quel casino In verità Pure io sono eccitato dall'idea di rivederlo Tutte le volte che torna La prima cosa che facciamo è un confronto in altezza Questo è l'anno in cui io Sarò finalmente più alto di lui Me lo sento Lo sento nel sangue Tu e tuo fratello sembrate molto affiatati Fate bene La famiglia è importante Ehi Che ci fai con l'album fotografico di Basil, Sunny? Oh, io gliel'ho regalato Ho pensato che sarebbe meglio se lo tenesse lui Wow, davvero Carino da parte tua Ha senso Specialmente dal momento che Sunny si sta trasferendo altrove Cosa? Sunny si... Sta trasferendo? Oh sì Pensavo di avertelo già accennato Devo essermi dimenticato Se ne andrà tra... Tre giorni, giusto? Perdonate... Perdonami Credevo lo sapessi già No, immagino di essermi perso questa parte Scusate Posso assentarmi un attimo? Io devo andare in bagno Che cacchio succede? Che gli prende? Oh beh, c'è poco da fare Quando ti scappa, ti scappa Andrà tutto bene Andrà tutto bene Andrà tutto bene Andrà tutto bene Oh, sei tu? Sunny, sei qui Sono così contento Puoi... puoi vederlo anche tu, vero? Qualcosa dietro di te No? Shit Sunny Perché sei così spaventato? Sunny Ora va tutto bene Non è vero? Sunny Perché sei così spaventato? Shit Ma che diavolo Non so che fare Ciao Capitan Sonaglio Buon secondo anniversario Bentornato Bellissimo Welcome back Siamo in un momento Un po' Strano Aspetta Ti prego Sunny Non abbandonarmi Non di nuovo No aspetta In che senso di nuovo? Come no? Sunny non vuole più entrare Ehi Sunny Credo sia ora di tornare a casa Il mio coprifuoco è passato da un bel po' Allora ascolta Polly Se mai dovessi avere bisogno di me Questo è il mio indirizzo Abito proprio in fondo all'isolato Grazie Che sei un tesoro Oh stai esagerando Saluta Basil da parte mia No raga Quello si ammazza Vi ricordate il gioco dell'impiccato? Basil Oh Basil Oh povero ragazzo È sempre stato debole di stomaco Speriamo si riprenda presto Niente Non mi fa Non mi fa più entrare No raga Quello si ammazza È tipo impossibile chiudere omori Impossibile Qui dove c'era la chiesa Sì Vabbè raga Io terrei il save Fuori da casa di Basil Che ansia Porca miseria Sono curiosissima Di sapere Che cosa si nasconde Dietro al mistero Di tutto questo Perché Allora sappiamo che Oggi abbiamo scoperto Che Mari è morta Anche se Bene o male Era capito Alexis Anche a te Buon secondo anniversario Grazie per la risavvona Bentornato Sì Sì Allora No aspetta Domani c'è la patch di Genshin Domani c'è la pacciona Allora Credo ci sia effettivamente Tanta roba da fare Quindi penso che lo continueremo Venerdì Vabbè Andiamo avanti venerdì Raga Non è che scappa Perché domani c'è la pacciona Quindi c'è C'è tutta la roba da fare Su Genshin Però venerdì possiamo andare avanti No più che altro Allora Basil Secondo me Ha avuto una specie Di attacco di panico Io spero Che non si sia suicidato Ma visto quello Che avevamo visto Nel mondo dei sogni E il gioco dell'impiccato E Basil che era scomparso Secondo me Non è finita bene Non ci arrivi a venerdì Dai resisti È molto bello Veramente sto gioco Mari è morta Abbiamo scoperto Che è la sorella di Omori E Omori non parla mai Però tutti lo vedono E si rivolgono a lui Quindi c'è È lui che non parla Non lo so Cioè è strano Perché non parla Ha avuto un trauma Ha visto qualcosa Che lo ha traumatizzato Probabilmente Non lo so Comunque veramente bellissimo Bello 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 Io nel frattempo Stavo continuando a girare Quei personaggini Va bene Sì 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 Sì